Salve a tutti, benvenuti alla video rubrica a segnalazioni, sono Gianfranco Marini e ho pescato per voi dai mari del web infestati dalla plastica, dalle fake news e della disinformazione alcune fonti di informazioni e soprattutto alcune fonti di dati che possono essere molto interessanti in questa prospettiva si tratta di due servizi messi a disposizione dall'Istat per facilitare la consultazione delle norme mole di dati dell'Istituto di Statistica Italiano si tratta prima di tutto di serie storiche, è un enorme archivio di dati online, questi dati possono anche essere scaricati un foglio di lavoro, un foglio di calcolo, rieditati, modificati, adattati alle proprie esigenze è interessante perché si tratta di ben 150 serie storiche che trattano un po' di tutto sono suddivise per facilitare la ricerca dei dati in seare tematiche, a loro volta suddivise in 22 argomenti e riguardano dati relativi al territorio nazionale, alle regioni, ai comuni spesso interessante è anche il fatto che ci sia la storia delle fonti e che ci sia anche un glossario che ci permette di conoscere e padronizzare il linguaggio della statistica questo è il link per poter accedere al servizio cliccando questo link come vedete si arriva alla pagina in cui abbiamo a disposizione suddivise in queste sei aree, popolazione, società, istruzione, lavoro, salute, welfare, eccetera, eccetera le 1500 serie storiche e queste sono le tematiche attinenti a ciascuna macroarea per esempio popolazione, società, popolazione, famiglie, giustizia, criminalità, cultura e tempo libero e così via proviamo a vedere come funziona, se andiamo in istruzione abbiamo a disposizione queste serie storiche per esempio livello di istruzione e analfabetismo clicchiamo e vediamo i dati disponibili dal censimento popolazione residente in età di 6 anni per livello di istruzione cliccando abbiamo la possibilità di scaricare in un foglio di calcolo i dati per poterli modificare c'è però la possibilità anche di consultare visualizzandole con dei grafici interattivi di consultare questi dati ecco vedete andiamo per esempio in istruzione lavoro e possiamo accedere ad alcune delle serie storiche questo è il lavoro, andiamo su istruzione e vediamo questi grafici vedete che, non so, le donne che studiano parliamo degli iscritti all'università aumentano fino a superare progressivamente qui siamo nel 1913 rappresentavano solo il 7% aumentano fino a superare i maschi adesso rappresentano il 57% qui abbiamo, non so, il conseguimento del titolo di studio ecco, il 98-80% degli iscritti alla scuola secondaria di primo grado insomma la scuola media consegue il titolo questa è la scuola secondaria cosa possiamo fare con questi dati? bene, possiamo condividerli share qui abbiamo il codice di incorporamento il link possiamo ingrandire lo schermo anche se il risultato non è gran che insomma, perché più o meno le dimensioni rimangono uguali e possiamo resettare tutto quanto o tornare indietro resettare e tornare indietro bene pensate come può essere utile per abituare i nostri alunni e le nostre alunne a cercare dei dati per trovare riscontri ad affermazioni tesi e del dibattito per esempio politico o del dibattito su questioni relative alla società come può anche essere utile proprio per educarli a un pensiero critico e quindi a trovare il riscontro alle affermazioni, alle tesi e agli argomenti e quindi pensiero critico da un lato è sviluppo, maturazione delle capacità di ricercare valutare confrontare vagliare le fonti vagliare i dati possono essere gli obiettivi tra i disciplinari della consultazione di questo sito e questo può far riferimento o comunque interessare delle aree disciplinari che vanno dalle scienze sociali alla psicologia all'economia politica al diritto alla storia alla filosofia eccetera eccetera in alcuni casi a seconda del tipo di serie che consultiamo anche alle scienze pensiamo al territorio alla gestione del territorio ai disastri naturali e così via che possono coinvolgere che sono le scienze della terra bene passiamo adesso a Noi Italia ecco Noi Italia è un'iniziativa interessante si tratta come dice la scritta il testo dicendo statistiche che vengono selezionate dall'Istat ogni anno questa è la versione del 2018 c'era quella del 2017 eccetera e quindi aggiornate e che sono tematicamente selezionate in modo da offrire una panoramica del paese basata sulle attività sulle indagini statistiche appunto dell'istituto 100 statistiche divise in aree tematiche anche esse sono 12 per un ogni area tematica poi è suddivisa ulteriormente in alcuni settori e abbiamo a disposizione i grafici possiamo esportare questi dati in altri formati possiamo scaricarli come abbiamo già visto questo è l'indirizzo noi tratti in Italia appunto istat.it andiamo a vedere come la grafica è abbastanza semplice qui ci si dà una presentazione andiamo per esempio a vedere la popolazione e la società clicchiamo questi sono i settori e per esempio veniamo alla questione così importante nel pensiero critico in sociologia nelle scienze sociali in psicologia sociale della realtà percepita e della realtà oggettiva riguardo la criminalità e la sicurezza cliccando possiamo consultare questi grafici qui abbiamo come serie storiche le stesse possibilità di operare su questi dati condividerli scaricarli vedete da qui si possono scaricare ma osserviamo i dati purtroppo anche a schermo intero non cambia molto vedete rimangono piccini col tasto control più posso ingrandirli ecco notate che sia gli omicidi volontari che i furti sono calati dal 2004 al 2016 anche in modo abbastanza drastico dagli omicidi volontari per esempio erano 1.2 ogni 100.000 abitanti e adesso abbiamo solo 0.7 ogni 100.000 abitanti cioè sono quasi dimezzati anche i furti dopo aver toccato un picco vedete nel 2007 2.800 furti non so cosa sia questo punto 7 sono scesi a 2.221 quindi insomma buone notizie così come il rischio di criminalità rimane a livelli piuttosto bassi simile a quello del 2005 e anche vedete le persone denunciate per reati sono calate nel 2015 928 ogni 100.000 abitanti mentre prima erano eccetera eccetera adesso non so farvi tutta la storia solo purtroppo i femminicidi sono aumentati ecco cosa ci fa capire questo prendiamo in esame quanto sta accadendo adesso a livello legislativo senza entrare per carità nel merito né dare una valutazione manteniamoci oggettivi è stata fatta una legge sulla legittima difesa è un'altra legge che facilita e semplifica l'acquisto delle armi per rispondere a un'esigenza di sicurezza da parte della popolazione esigenza di sicurezza che nasce da una percezione della realtà che non è basata su dati oggettivi ma che è appunto errata illusore illusoria erronea come se appunto il pericolo fosse in questi anni aumentato il pericolo di furti di omicidi eccetera mentre invece abbiamo visto è calato la percezione però è che è aumentato per tanti motivi attinenti alla sfera dell'ecosistema mediatico della politica eccetera e quindi si è avuto il contesto che ha reso possibile queste iniziative legislative che probabilmente sono state salutate come positive dalla maggior parte della popolazione non da me concludo facendo osservare che questi grafici che possono essere quindi sia consultati che scaricati sono accompagnati da vedete dei testi che commentano e spiegano e da delle informazioni sulle pubblicazioni dell'Istat che hanno a che fare con queste tematiche e su link utili cioè se volessimo approfondire la conoscenza di questi argomenti basandoci su dati statistici vedete possiamo consultare tutte queste altre dati statistici dell'Istat e anche non solo dell'Istat bene io vi saluto spero vi possano essere utili queste segnalazioni alla prossima grazie a tutti grazie a tutti